La transizione sostenibile al centro del concorso fotografico di Quotidiano Energia. Il premio, giunto alla quinta edizione, è stato assegnato il 24 febbraio nel corso di un webinar che ha visto la partecipazione di vari esperti del settore energia e della comunicazione. L'iniziativa è promossa da Gruppo Italia Energia, editore di Quotidiano Energia, con il patrocinio del Ministero per la Transizione Ecologica, di Enea e di Ispra. Sponsor sono stati Enel, ExxonMobil e Gruppo ERA. Partner, le agenzie fotogiornalistiche Contrasto e AGR Press, oltre al motore di ricerca di eventi politico-economici Take the Date. I lavori del webinar sono stati aperti da Camilla Calcioli, Business Development Manager di Gruppo Italia Energia, e coordinati da Romina Maurizzi, direttrice di Quotidiano Energia. Tra i relatori, il presidente di Enea, Gilberto Dialuce. Quindi la sfida di questo concordo è riuscire a rappresentare con un'immagine ferma quello che è un concetto di movimento della transizione, soprattutto di renderlo in qualche modo concreto, tangibile per tutto quello che può essere gli impatti sulla comunicazione. E lo scatto vincente è stato quello di Giovanni Noto, dal titolo Alba sull'Etna vista dal borgo di Troina. Secondo la descrizione data dallo stesso autore, la foto scelta dalla giuria raffigura l'energia nelle varie forme, geotermica, cinetica, solare. Nel corso del webinar è intervenuto anche Alfredo Pini, responsabile del Dipartimento Valutazione, Controlli e Sostenibilità dell'ISPRA, che ha sottolineato come la transizione vada a modificare la società e i suoi modelli di riferimento. La premiazione ha offerto anche l'occasione per approfondire il ruolo della comunicazione nella transizione sostenibile. Su questo sono intervenuti Cecilia Ferranti, responsabile Comunicazione Italia di Enel, Marco Falcone, direttore relazioni esterne e istituzionali di ESSO Italiana, Cecilia Bondioli, responsabile rapporti con i media ed editoria di Gruppo Era, Cristina Corazza, responsabile relazioni e comunicazione di Enea. Tra i messaggi emersi, l'importanza di una transizione giusta che non lascia indietro nessuno, anche per mezzo di una comunicazione sempre trasparente e aperta ai nuovi strumenti. Al secondo posto del concorso di Quotidiano Energia si è classificato lo scatto di Matteo Capone, chiamato Puro Sole, nel quale si raffigura un sistema per la torrefazione artigianale a zero emissioni di CO2. Le due foto vincitrici sono state presentate e illustrate da due membri della giuria, Maurizio Riccardi, direttore del gruppo AGR, e Giulia Tornari, direttrice dell'agenzia fotogiornalistica Contrasto. A presiedere la giuria in questa edizione, invece, è stata Romina Maurizzi. Allora io vi ringrazio tutti, ringrazio le istituzioni patrocinanti, gli sponsor, i preziosi partner, il gruppo Enea Energia, il nostro editore e i miei colleghi. Vi do appuntamento alla prossima edizione, speriamo di non doverla dedicare al Carro Energia, che speriamo che ci siano altre priorità, magari divisive, magari difficili da raccontare, però che ci possano dare uno sguardo positivo in avanti. Grazie a tutti e alla prossima edizione.